ciao ragazze allora mi sono arrivati due pacchetti uno da melissa e uno da elena e apriamoli subito allora oddio quante cose ma aspettate che qui c'è ancora roba questo il pacchettino di melissa allora grazie per il favoloso swap dell'altra volta spero che tutte le cosine ti piacciono poi fai gli auguri alla piccoletta in anticipo ti faccio i miei auguri di buon natale un felice anno nuovo melli piaci da renna che la manderò la prossima volta grazie melissa davvero allora intanto guardate questi bellissimi questa è peppa pig e questo l'ha fatto per mia figlia è veramente bellissimo grazie non lo metto qua o guarda bellino con mini il cupcake e tanti auguri di buon compleanno vanessa e gli anni grazie melissa poi c'è il favoloso urlo di totoro cioè guardate che bello è bellissimo poi questa è la renna guardate bellino rilakkuma sito da babbo natale molto bellino e questa è la renna che mi manderà poi mi ha mandato questi orecchini fatti a renna da questi qui sono gli orecchini lo so ragazzi non mette a fuoco ma il telefono fa veramente schifo sono veramente troppo troppo dolci poi c'è questo pacco con queste perle cerate dei chiodini degli elastici no vabbè guardate belle queste perle delle chiusure delle perle a spero vabbè un monte di cosine stupende poi le perle cerate mi piacciono un sacco ma ce n'ho poche oddio cosa c'è ma quanti omaggi mi hai messo allora è ufficiale melissa sei pazza allora mi ha mandato il totoro cioè guardate che carino poi c'è l'alpaca mi dispiace che non mette a fuoco nulla oddio poi c'è l'alpaca con gli elastici cioè che carino di questo rosa pastello favolosa poi c'è questo dango di mamma e goma su gelatino un bellino poi questo cupcake con le pisla ma qui c'è oh Winnie Pooh in questo gatto e Winnie Pooh travestito da gattone un altro Totoro oddio che carino mannaggia che si vede male ha protetto mille volte un altro Winnie Pooh travestito da gatto troppo bellino e poi il bigliettino da visita meli fimo creazioni in fimo pisle loom lavorativi tutti i tipi dai su youtube meli fimo e su instagram meli trattino basso loomer poi c'è un altro altre creazioni cioè fantastiche questo gattino con questa zucca troppo bellino e poi c'è guardate che meraviglia ora ricomincia vanessa peppa questo cupcake fatto con il rumo c'è ragazze bellissimo è fatta è veramente ciottoso troppo troppo bello è veramente troppo 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 bello e nulla questo è il pacchettino che mi ha dato melissa è davvero favoloso cioè grazie grazie davvero melissa perché cioè mi ha mandato troppe cose troppe cose in più ora io al più presto che lo mando anch'io è solo che ho avuto grossi problemi di tempo cioè proprio non ho avuto tempo di fare niente ora 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 mi sdebiterò non ti preoccupare niente ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao ciao